Bene, eccoci insieme anche oggi. Questa è una puntata che si preannuncia particolarmente interessante perché intrigante, nel senso che andiamo a scovare una perla della città di Padua, in particolare del centro della città di Padua, parliamo della zona della cittadella francescana e lo facciamo con Bruna Gallo che è la presidente dell'associazione Gattamelata. Il Gattamelata è il monumento che è davanti alla Basilica del Santo, quindi abbiamo già localizzato l'area. Qui per alcuni fine settimana, esattamente tre fine settimana primaverili e tre fine settimana autunnali, si tengono delle manifestazioni a partire dal 13 e dal 14 di aprile, quando si svolgono libri sotto i portici e all'ombra del Gattamelata. Però io partirei da una frase che lei mi ha detto poco fa fuori onda. Sono da dieci anni che vivo in piazza. È quella la piazza di Padua? Quello è il cuore della nostra città sicuramente perché la Basilica è un fulcro importantissimo di attrazione per i padovani e per i milioni di turisti che ogni anno vengono al Santo, quindi sicuramente è il biglietto da visita della nostra città. Lei è padovana signora? Sì, sì, doc. Ecco, e come vive un padovano quella zona? Ma chi l'ha capita la vive benissimo perché è una delle zone più belle, più ricche di storia, dove c'è sempre movimento, c'è vita, data anche da tutte queste persone che vengono a visitare la nostra città, di tutti i paesi del mondo, per cui se uno ha voglia di interagire hai sicuramente un arricchimento continuo. Io non sono padovano, sono foresto, quindi vedo Padova con degli occhi un po' diversi. Io vedo quella zona come un luogo sicuramente internazionale e ricco di spiritualità, però il salotto della città è da un'altra parte, che è un po' diverso da quello che generalmente uno è abituato a pensare essere, come lei ha detto, la piazza. Perché nelle città la piazza è il luogo del... Sicuramente per i padovani, sì, le piazze sono le piazze storiche, però abbiamo perso negli anni, secondo noi, la centralità della nostra zona, perché il padovano negli anni ha visto la zona del Santo come una zona prettamente turistica. Questo non è vero anche perché ci sono tante attività legate al territorio del Santo, ma anche tante altre attività che sono negozi che vivono tutto l'anno con la clientela locale, per cui è una zona da vivere, una zona tranquilla, è una zona in cui si sta molto bene, dove ci sono anche tanti ristoranti, tanti bar che vale la pena anche di frequentare. Ecco, voi con questa iniziativa nei fine settimana scrivete, volete promuovere la cittadella francescana. Sì, noi da quando io sono presidente, che ormai sono dieci anni, mi sono impegnata proprio a far rivivere ai padovani la nostra zona, perché queste iniziative vogliono proprio riportare il padovano a avere il piacere di camminare sotto i portici, ad avere questa vista meravigliosa della basilica, a sentire la spiritualità che questa zona dà, ed è una zona serena, è una zona tranquilla dove non c'è confusione, quindi secondo noi vale la pena, almeno ogni tanto, di venire a farsi una passeggiata. Queste iniziative sono proprio un invito, i sabati col mercato del libro e la domenica con gli artisti sotto i portici, a venire e capire quanto c'è di ricchezza in questa zona. E non è un caso che voi abbiate scelto questi due oggetti per, in qualche maniera, rilanciare la frequentazione. Certo, perché l'espressione dei libri antichi è sicuramente un'espressione importante, che Padova ha anche una grossa fetta di storia. E gli artisti, che sono molti artisti padovani, ma anche artisti che vengono da altre città, anche da altre regioni, fanno vivere proprio questo momento d'arte, in questa zona d'arte. Ecco, mi scusi la domanda, forse anche antipatica, ma nelle zone, nelle aree dove c'è molta frequentazione turistica, purtroppo negli anni recenti, non parlo di Padova, parlo in genere, c'è anche molta appaccottiglia, negozi studiati apposta per i turisti, insomma, sono lontani dalla tradizione del territorio. A Padova come? Ecco, noi per fortuna nella nostra zona ci siamo salvati, perché sono rimaste le attività storiche, purtroppo anche da noi si è sofferto, si sta soffrendo, perché il commercio è in sofferenza, non possiamo dire di no, però sono rimaste ancora le attività storiche. Perché se noi togliamo la fetta delle bancarelle che vendono il souvenir legato alla basilica, tutti gli altri negozi sono storiche, certo. Tutte le altre attività sono attività legate al territorio, non sono di pacottiglie, anzi, ci sono negozi anche con prodotti di alta qualità, sono al santo, ma sono negozi integrati nel territorio. Perché qui a Padova c'è ancora un po' il culto della bottega storica, ce ne sono più di più di alcune, insomma, che sono a mantenere la tradizione familiare, se vuole. Sì, sì, allora noi cerchiamo in tutti i modi che questa tradizione rimanga anche con difficoltà, perché sono i negozi dove il cliente trova qualità, professionalità, serietà. E poi se è vero, come si dice, che i muri respirano, traspirano storia, insomma, ci sono alcune botteghe nel centro storico di Padova che sono particolarmente ricche. Sì, non possiamo essere orgogliosi di chi è ancora in grado di resistere. Lei diceva che è da dieci anni presidente dell'associazione Gattamelata. In questi due lustri di attività, com'è andata? Ma devo dire che di iniziative siamo riusciti a portarne avanti molte. Devo ringraziare le varie amministrazioni comunali che, quando possono, ci danno anche una mano, anche in termini economici. Le due, diciamo, cose più importanti che adesso facciamo sono sicuramente la rassegna d'arte e i libri sotto i portici e presepiando, che è una mostra di presepi nelle vetrine dei negozi. È un'iniziativa che ormai siamo arrivati alla sesta edizione ed è un'iniziativa molto importante perché andiamo a posizionare 45-50 presepi proprio nella cittadella francescana. Quindi un percorso che porta da Via del Santo a San Francesco e ritorno in piazza, nelle vetrine dei negozi mettiamo presepi artistici che, amanti del presepio, ci prestano molto volentieri perché vengano messi in mostra. E anche questa è un'iniziativa che porta tantissima gente a venirci a vedere. E quindi vede il presepio, vede il negozio, vive la cittadella francescana e scopre un territorio che tante volte, pur essendo padovano, non pensa di venire. Lei ha un'attività in zona, un'attività di oggettistica d'arte. Sì, noi trattiamo gioielli e antiquariato prevalentemente. Ecco, per chiederle, lei è una clientela e anche i suoi colleghi prevalentemente locale o godendo del richiamo del santo avete un appeal internazionale? Sì, allora, noi sicuramente viviamo del padovano perché la mia attività ha 43 anni per cui siamo conosciuti. E così vale anche per moltissimi altri che sono radicati nel territorio da tanti anni. Poi chiaramente, essendo in zona, arrivano turisti da tutto il mondo che sono i ben accolti. Ecco, ci fa anche molto piacere. Però diciamo che principalmente le nostre botteghe vivono ancora di clientela locale, principalmente. Il turista straniero resta soddisfatto di quell'angolo di Padova, secondo lei? Sì. O si aspetta qualcosa di diverso? E rimane soddisfatto, certo che se anche quelle vetrine che sono rimaste vuote venissero riempite sarebbe sicuramente un bel risultato perché una strada più vissuta è un biglietto da visita più invitante. Purtroppo la crisi ha colpito la nostra strada, ma un po' tutta la città. C'è molta mortalità nel commercio padovano? Purtroppo sì. Un po' dovuto anche a degli affitti pesanti che molti proprietari non sono disponibili a rendersi conto che le situazioni sono cambiate. E secondo lei la qualità paga ancora? Oggi siamo troppo attenti al prezzo? No, no, la qualità paga sicuramente. La qualità per i negozi, diciamo così come i nostri, di vicinato, è sicuramente un'arma vincente. Tu devi offrire un prodotto che si stacca completamente dalle catene, dalla grande distribuzione. Chi viene in negozio è il cliente che non va nell'ipermercato. E secondo lei in un'area come quella appunto legata alla cittadella francescana ci deve essere anche una sorta di genius loci nell'offerta commerciale? Cioè voglio dire, ci sono negozi che ci stanno meglio e negozi che magari sono fuori... Ma devo dire che attualmente i negozi che ci sono sono tutti giusti, non c'è niente fuori luogo. Noi per fortuna nella nostra zona non abbiamo subito, come a Venezia, l'invasione di pacottiglie, di cose veloci, da turista, così. Quindi rimangono ancora negozi belli, negozi giusti, insomma. È un caso o è anche merito vostro? Cioè è merito dell'offerta? È anche merito dell'offerta, sicuramente. Chi ha il negozio piccolo ci tiene a fare un'offerta di qualità, perché poi nel momento in cui tu abbassi il livello vuol dire tagliarsi completamente fuori il cliente locale. Quindi ti imposti solamente sul turista e secondo me non è una bella mossa. Per concludere un paio di cose su quello che ci aspetta con queste manifestazioni. C'è qualcosa di carino per cui uno magari... Allora sicuramente abbiamo... ...incuriosito a venire. Ecco, allora per quanto riguarda il mercato del libro, c'è per la prima uscita la proposta della Libreria I Due Santi, che è un Promessi Sposi, che è il più piccolo che è stato stampato, per cui è misura 5 cm. Quindi sicuramente una grande curiosità da venire a vedere. E poi tanti altri espositori che porteranno le loro opere. Per quanto riguarda i pittori, abbiamo dei pittori molto particolari, che sono assidui frequentatori e quindi sicuramente una passeggiata vale la pena di farla. Insomma, con l'attività degli anni siete riusciti a creare una sorta di club. Sì, sicuramente, degli affezionati. Degli affezionati e degli appassionati della zona della cittadella francescana, che è quella appunto che sorge a Padova attorno alla Basilica del Santo. Il tutto è promosso dall'Associazione Gattamelata, di cui abbiamo avuto il piacere di ospitare la Presidente, Bruna Gallo. E allora ricordiamo che per tre fine settimana primaverili e tre autunnali, a partire da questo fine settimana, appuntamento fisso, il secondo sabato e la seconda domenica di ogni mese, con pausa estiva, appunto, in luglio ed agosto, mostra del libro e mostra di opere d'arte. Buon lavoro, signora. Grazie, grazie molte. Grazie a voi. L'appuntamento, naturalmente, è a visitare questo angolo di Padova. Ci si vede. Grazie a voi.